Previsioni meteo per martedì 28 agosto al nord ben soleggiato su tutte le regioni con cieli sereni solo dal pomeriggio qualche isolata nube sparsa sulle alpi occidentali al centro bel tempo su tutte le regioni con cieli sereni al pomeriggio qualche isolata nube sparsa sulle zone interne al sud in prevalenza soleggiato poco nuvoloso con qualche nube sparsa innocua su Puglia e dorsale a tratti ventoso sulle coste venti moderati mari generalmente molto mossi temperature in rialzo